però me lo fai dire una cosa è l'ultima però e si è concluso, questo è il processo del peso non va più a metri quadri ci si va a peso dice allora ma farà la dieta a peso significa, gli spiegavo a questo emigrato che a peso significa che c'è un operatore ecologico che ritira a casa a domicilio la munizia la valuta l'apesi a domicilio non è un altro, non è un altro a domicilio manco chi dà la pizza viene a domicilio manca un dottore manca chi dà la sera, anzi viene solo chi dà la sera per ignorare le baci se no verrà a domicilio a valutare e io me ne immagino Picciotti per un attimo ho immaginato questa situazione nelle nostre città siciliane perché arriverà differenziata la munizia valutata a peso è ritirata a domicilio cioè tu puliano a casa in Palermo tu immagino te te ne puoi tanti a terra chi è? a me dice picchi i cani chi vuole? a moci piccirini fanicili i cani aspetta aspetta tu a quel punto apri prima ta lì c'è mondezza? un attimo ti la pienso sicuramente perché se c'è uno come me cugnato panettone 128 kg il revetto cuna cacciapennoni di tutto lato bilancino nelle mani sguardo intelligente avanza giusto tu apri la porta lui avanza tu prendi il tuo sacchetto della munizia glielo porgi lui lo butta sul bilancino che avranno i nostri operatori ecologici che ritirano la munizia a domicilio Idolo lo butta sopra il bilancino valuta dice è un chile e quattro che faccio lascio dice che voleva ma mangio chi voleva ma mangio aiutatemi aiutatemi dice no io per lei dico io per me scontrino ci si guarda se non è poco contativo me lo dia quanto pago dice un attimo 6x7 42 5x7 6x7 8x7 6 euro quanto 6 euro 6 euro ha spesa per 5 euro non è che sta a spesa ci la fa la tuga ci la fa la tuga ci la fa i bottigli lei mi ha pensato lei a cero sta a filmare